Se state sottovalutando l'importanza dello specializzarsi, ma anche se pensate che sia fondamentale per il vostro futuro professionale, allora fermatevi qui e guardate questo video. Se il vostro obiettivo è trovare il lavoro dei vostri sogni, allora è bene più che mai che iniziate a rimboccarvi le maniche e ad approfondire le vostre conoscenze grazie alla guida e al supporto di veri professionisti del settore. Ciao, sono Davis. E io sono Astrid. Siamo i responsabili di Mind Academy, una scuola di formazione per futuri professionisti digitali con sede a Padova. In questo video vogliamo spiegarvi perché specializzarsi è importante. Innanzitutto per l'approfondimento delle conoscenze, perché specializzarsi in un determinato settore mi permette di acquisire delle conoscenze molto specifiche in quella determinata materia. Questo è importante perché specializzarsi può renderti un esperto nella tua nicchia e ti può portare tantissime opportunità professionali. Inoltre, importantissimo la competitività sul mercato del lavoro. Le aziende cercano sempre più dei candidati che abbiano delle competenze molto specifiche, quindi essere un esperto di nicchia ti permetterà di sicuro di distinguerti da tutti gli altri candidati. Specializzarti poi ti garantirà una migliore retribuzione, in quanto le persone più specializzate possono anche chiedere di più per un determinato lavoro, anche perché le aziende poi hanno bisogno di persone specializzate in un determinato settore e non di tuttologi. Importante è anche poi la propria soddisfazione personale, perché il lavoro lo dovrete svolgere per gran parte della vostra giornata quotidiana, quindi è bene che quello che fate vi piaccia e vi stimoli. Avere una specializzazione in un settore che vi appassiona vi darà anche un senso di successo personale che contribuirà a farvi raggiungere i vostri successi. Senza contare poi che una specializzazione ti permetterà di ambire a ruoli che difficilmente saranno accessibili a persone con competenze generaliste. Può ambire a ruoli di leadership, di consulenza di cerca, che richiedono una specializzazione e non possono essere fatti da persone generaliste. A proposito delle opportunità di carriera, è utilissimo che voi sappiate che in Mind Academy abbiamo un Career Center ed un Talent Recruiter dedicato solo a voi. Il Career Center seguirà il vostro percorso di inserimento nel mondo del lavoro, grazie alle numerose opportunità lavorative che abbiamo con le agenzie di comunicazione e anche con le aziende. Se vuoi riuscire ad avere il lavoro che hai sempre sognato o magari toglierti da una situazione di insoddisfazione personale o da una situazione lavorativa che ti va troppo stretta o ti fa sentire poco valorizzato, oppure se non hai un lavoro e vuoi trovare un'opportunità concreta e reale, contatta Mind perché potrebbe essere la scelta ideale. Ricordatevi tutte le informazioni sui nostri corsi in descrizione. Grazie a tutti.